Sabato la VL ha perso la battaglia, la domenica ha però ricordato che la guerra non è ancora terminata. La sconfitta pesaresa Tortona contro la Bertram per 84-77 viene infatti parzialmente addolcita dal concomitante K.O. di Treviso a Venezia che ricorda che c'è ancora speranza. Perché se la VL ora resta incollata sul fondo a quota 18 punti pure in compagna di Brindisi, c'è sempre Treviso che resta appena due punti avanti. L'aggancio e la prospettiva di salvezza resta dunque ancora praticabile in caso di vittoria dei pesaresi domenica in casa con Cremona e concomitante K.O. della Nutriballe Tavarese. Insomma, Pesaro ha un'unica via, battere Cremona e incrociare le dita e poi fare altrettanto anche nell'ultimo turno che seguirà. Ultimo turno che domenica prossima servirà alla VL invece solo per capire in che posizione disputare i play-out. L'ultima chance di evitare gli spreggi, i pesaresi l'hanno dilapidata ieri a Vercelli perdendo col sestrelevante 3-2 e consegnando la salvezza diretta ai Liguri. Una partita sull'ottovolante con la Viz che va sotto dopo sei minuti ma ribalta la situazione con i gol di Gianmarco Neri e Nicastro che le consentono di chiudere il primo tempo avanti 2-1. Ripresa però disastrosa in cui la Viz si incassa due gol con la doppietta di Clemenza e due espulsioni per doppio giallo di Peixote e Mattioli. Partita persa, play-out certi e al 90% saranno con la Re Canatese. Play-off invece aritmetici per l'Ital Service nella massima serie di calcio 5. I pesaresi staccano il pass per la post-season vincendo sabato a Viterbo 1-0 grazie alla rete di OneFran che erge l'Ital Service al sesto posto. Si chiude invece al quinto posto la fase play in gold dell'Ital Service Loreto Basket dopo aver spugnato il parquet del Val di Ceppo Basket 67-94. Ora due settimane di sosta e poi saranno play-off contro Senigallia. La domenica appena trascorsa regala invece la gioia della salvezza aritmetica per la Fiorini Pesaro Rugby nonostante l'amarezza della sconfitta con Rugby Paese 34-17. K.O. in terra trevigiana addolcita dai risultati degli altri campi che certificano per Pesaro un altro anno di Serie A. K.O. in terra trevigiana addolcita dai risultati di S.